ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a voi che state guardando eccoci qua con un altro episodio un'altra puntata delle vostre collezioni dei vostri orologini che ce li mostrate e ci fate divertire no nel senso poi ci divertiamo perché ci piacciono gli orologi ci piace come li esponete a volte sì a volte no e ci piace vedere cosa fate con gli orologi qual è il percorso qual è la vostra scelta perché fate queste cose perché perché vogliamo sapere siamo curiosi sono un popolo di voyeristi come partecipare lo sapete un bel video in orizzontale che dura 6 7 8 minuti non di più per cortesia spigliato conciso con il diaframma insomma elevato in modo che la voce esca perché a volte sembra che state per morire proprio vi state spegnendo da un momento all'altro non proprio si affievolisce la voce mano a mano che passa il tempo ti viene voglia di fare un massaggio cardiaco al volo insomma dai vi mostro l'orologio del giorno che oggi è ancora il mio solito long jean legend diver dai non ce lo togliamo più ci piace tanto 39 mm di diametro cassa calibro l 8 8 8 chi più ne ha più ne mette ormai lo conoscete a memoria a me mi garba tanto e quindi lo indosso con piacere con soddisfazione perché fa il suo hai capito cioè fa il suo perché è molto bello questo ha detto manca la sigla sotto le feste ci vuole la sigla quella natalizia siamo capiti no meno male che fra un pochino le feste finiscono così ci leviamo dagli scatoloni anche queste bagianate hai dato noia adesso ma hai dato già due colpi alberello verrà amputato primo video bara spaziatrice pronta a subire i colpi del destino e il destino in questo caso prende il nome di dito indice fuoco ciao davide ciao sono davide da riccione che avevo già mandato un mio video per la mia collezione e dove sei quest'estate che l'hai pubblicato verso fine estate e sono quel ragazzo che aveva concluso il video comunque lawyer silverstone non so se ti ricordi avevo appunto chiesto delle informazioni e anche un consiglio su un eventuale cronografo da acquistare come puoi vedere non mi trovo a riccione ma mi trovo in vacanza siamo alle Maldive a fare natale al caldo e ti volevo appunto far vedere la mia collezione aggiornata scusa sei andato in vacanza alle Maldive ti sei portato sei orologi secondo me te li sei portati apposta che ho detto vado alle Maldive faccio il video per Davide così faccio passo per quello super figo eh bravo 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 però anche alle Maldive hai trovato la tovaglia adatta alla saga eh sì 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 con tutte queste belle frutte fragole eh bravo sei un grande questi sono orologi che facevano già parte ti avevo già fatto vedere della mia nel precedente video e appunto sulla domanda che ti avevo fatto su un cronografo da acquistare eh attorno ai 4000 euro su quella fascia di prezzo non ho trovato niente che mi convincesse quindi ho preferito appunto concentrare il mio budget e prendere questi due pezzi che secondo me si collocano eh nel nel panorama dell'orologieria svizzera come due buonissimi entry by il primo è questo qui aspetta che lo inquadriamo meglio oh è il Tudor Royal top conosci bene è un orologio che mi è sempre piaciuto anche per me ma l'ho sempre trovato un po' sgraziato nelle nelle misure maschili sia il 38 che il 41 mm lo trovavo un po' sproporzionato soprattutto per la rastrematura del bracciale e onestamente anche la la finestra data secondo me eh non andava ehm insomma rovinava un po' l'estetica del quadrante quindi questo qui ho preferito prendere appunto la misura da 34 mm che ho regalato a mia moglie e secondo me è un ottimo acquisto e in questa misura lo vedo veramente eh più più riuscito cioè ma non ho capito ma ti sta bene anche a te lo indossi te perché l'hai regalato a tua moglie è tutto un altro discorso ho preferito concentrare il budget su questi due orologi sembra quasi che te ne sia quello di comprare per te poi mi dici che è di tua moglie cerchiamo di capire fammelo vedere anche al polso 34 mm anche se c'è il bracciale integrato che ne mostra di più però insomma si fatica eh vabbè comunque contento te contenti tutti eh bello orologio altro pezzo che ti volevo far vedere appunto mi sono voluto togliere lo sfizio del del cronografo e ho preso ho deciso di prendere questo questo vulcan questo vulcan crono visto che tu ultimamente hai fatto la recensione del del mono pusher ma ti devo dire la verità che a me questa versione qui la versione classica 1970 è quella che mi è piaciuta di più è bello è presa per poco meno di 2000 euro l'ho preso a scatola chiusa e devo dire che poi quando è arrivato mi ha veramente mi ha veramente stupito è un bello orologio al mare lo porti cassa da 38 mm spessore veramente contenuto siamo sotto i 13 mm poi ho trovato questa appunto questa referenza eh in edizione limitata con questo quadrante panda e devo dire che eh mi è piaciuto vederlo dal vivo mi è piaciuto ancora di più che vederlo poi eh in foto è bello sì poi eh poi come ci dici come ci dici sempre tu e io sono pienamente d'accordo la nostra è una passione dove vai che va soprattutto anche contestualizzata no e quale miglior contesto e quale migliore occasione di questa c'è della topa di questa vacanza appunto per farci un piccolo regalo a noi a me e alla mia famiglia ti volevo fare gli orologi che ci siamo presi proprio prima di partire per questo per questo viaggio il primo che ti volevo far vedere appunto è il mio l'altro squale bravo squale 1521 so che a te la cassa nera in pvd non ti fa impazzire vabbè però ci sta bene però volevo un orologio nero un orologio subacqueo appunto qui siamo praticamente tutti i giorni immersi nell'acqua a fare dello snorkeling sta bene sta bene bene e poi altri che ti volevano far vedere un video fare vedere questo video ecco qua un po' timida la signora dove vai? questa è mia fermati questa è mia moglie che non si vuole far inquadrare cercavo un diver anche per lei so che anche a te ti piace molto questo qui un diver molto bello questo Seiko 1965 diver è una rieinterpretazione del 62 mass bello al mare ed è veramente lo trovo veramente azzeccato soprattutto con questo in questa versione con cinturino in gomma e la fai il braccio poverina poi il più importante di tutti poi l'abbiamo ecco qui ti ricordi di lei chi è che sei? Virginia mia figlia di 8 anni e che orologio è questo Virgi? un bel caso un diver che può andare 100 metri sott'acqua 100 metri sott'acqua wow il suo primo diver giusto? sì ok Davide noi ti salutiamo e ti volevo lasciare con questa immagine e ti volevo fare non so se si vede bene un augurio di buon Natale ah ganso non so se si inquadra rock and love and love ti faccio come sempre i complimenti per il canale grazie e tanti auguri di buone feste a te e a tutta la combricola io adesso me ne vado a fare un bel bagno ciao Davide ciao sti stronzi eh noi siamo qua al freddo e al gelo e sto qua se ne va alle Maldive a fare il bagno al caldo con tutti gli orologi si porta tutti gli orologini dietro e obbliga anche la moglie e la figlia a mettere gli orologi qua siamo veramente alla malattia probabilmente gli ha offerto la vacanza andiamo a vacanza alle Maldive basta che mi fate comprare un paio di orologi e lui ci ha comprato un paio di orologi ecco fatto come siamo messi comunque simpatico video mi piace questa cosa di farci anche vedere un po' come vi muovete dove andate cosa scegliete cosa fate perché lo fate un fiorino eh sì ci piace tanto bei gli orologi devo dire che lo squale nero lì oh così d'estate sulla spiaggia per un attimo dico solo per un attimo e ora non mi è venuto voglia di averlo anche a me nero un orologio nero eh ora qua stiamo proprio rompendo gli argini vado contro tutti i miei paletti che ho sempre messo un orologio nero ci starebbe anche dai bello bello complimenti bello anche il tudor da 34 poi cosa c'era non mi ricordo più cosa c'era fammi un po' vedere eh sì si ha preso il vulcain tanta roba è fatto bene io ho recensito il monopulsante ma mi sembra che ho recensito anche no forse il cricket ho recensito ma insomma eh non si sbaglia con vulcain sono tutti orologi degni di nota eh va bene dai la signora l'orologio più bello ce l'ha la signora il secco 62 lì mass bello bello brava è un po' grossino però eh bene bene non so cosa dire eh la gente vale maldive noi altri qui a guardare il video ce l'abbiamo nel do maggiore no come si suol dire gonfia prossimo video ciao davide ciao innanzitutto complimenti per il canale grazie per la tua competenza per la tua simpatia e per la tua schiettezza ma se lo dici te ho scoperto dal video della distruzione del rolex gmt e da allora non mi sono perso un'uscita che video eh ci sono un po' di orologi per cui cercheremo di andare il più spediti possibile vai senza far annoiare nessuno no però iniziamo dopo il mare triste eh questo bellissimo ciofecone ah no questo cinesone scheletrato ah mamma mia la bruttura questi meccanismi tutti dorati pacchiani neanche ricordo dove ci sia arrivato a casa guarda anche lì sulla mente ora mi è venuto mi è caduto l'occhiolino sulla corona di carica e le spallette di protezione quanta distanza c'è c'è mezz'ora di pullman tra la corona e le spallette cioè proprio messi a caso no ci avanza questa corona mettila ci sta dai 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 vai 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 via vai via vai via ciofec ciofecone ciofecissimo l'ho tante messo nel il cassetto del dimenticatore l'ho buttata via ti faccio vedere velocemente i quarzi eh no molti sono stati regalati ma dai questo fashion watch un cronostar un erogio da centro commerciale profumeria carino fa anche la sua figura ma dove ma chi lo indosso ormai poco ma anche no poi ti faccio vedere questo loros sarebbe anche un cronografo però c'è l'errore concettuale della lancetta dei secondi a posto di quella appunto cronografica 44 millimetri mh anche questo ormai non lo indosso più di tanto dai già un pochetto più caruccio questo timex expedition si tecnologia indiglo indiglo carino cintorino scamosciato su tutto in inverno ci sta è caruccio se deve essere onesto è simpatico più che altro poi questo magari mi piace un casino la colorazione del dial si ma potremmo definire Hulk anche questo qua cronografo stavolta la lancetta cronografica è al posto giusto che culo eh molto bello molto bello si e poi ultimo quarzo e basta questo casio duro marlin in questa configurazione lavorazione sono riuscito a trovarlo appunto con ancora il marlin sul quadrante nel quadrante nero soleil con questa lavorazione mi piaceva questi dettagli diciamo placato oro non so cosa sia cos'è e più della colorazione della configurazione classica tutta nera in estate è veramente fantastico adoro immagino un bijou poi passiamo agli automatici innanzitutto questo lorenz l'ho ridato da mio padre ah bellino dai un lorenz automatico e fine anni 70 credo inizio 80 quindi proprio riprende gli stilemi di quel periodo te questi orologi con cassa bracciale integrato diciamo così qua c'è il cinturino non saprei se ai tempi fosse previsto un bracciale probabilmente no ma tant'è ancora funziona bene è stato revisionato qualche anno fa e ci sta anche sotto una camicia si sarà sui 34 35 mm mettilo via dai tipo ciò puoi vedere questo foibos foibos carino simpatico orologio molto robusto qua delante con questa lavorazione con questa colorazione molto bella e gradè molto bella vedro zaffero inserto ghiera in ceramica abbastanza spesso però ci sta facendo qualche viaggetto di tanto in tanto non ci metti in collezione si può fare ecco ovviamente non sono un pilota di linea ma lo va però dai è caruccio soprattutto vedere come dici tu il colore della quarta sfera riprende tutto il resto come colorazione dai ci può stare ci può stare sarà un nh34 un secco come calibro il calibro gmt è più spesso di solito dei calibri solo a tempo quindi facciamo che lo spessore ci sta no è un orologio utensile strumento ho utilizzato nessuno lo utilizza il gmt intanto poi poi questo gulova anche questo un regalo abbastanza spesso sembra quasi un tombino e il quadrante è anche bello come colorazione soleil c'è niente è un po' grande ecco sotto una caniccia già si vede risulta essere un po' al limite io un polso sui 18 cm e diciamo già vabbè cerco sempre di mettere altri ma lo si vede semplicemente dal fatto della finestra giorno data che è veramente al centro del quadrante ragazzi veramente al centro cioè c'è l'indice poi c'è ancora un po' di spazzito poi ci hanno messo la finestra giorno data vuol dire che il calibro è grande tanto quanto la finestra arriva fino lì e poi il resto non c'è niente sarà un 42 43 quanto sarà questo orologio qua? è veramente fuori misura per essere un tutto quadrante che vuole essere classico formale non ci sta per niente anche qui non è questione di avere un polso da 20 cm per cui anche un polso da 20 cm sta male sta male perché lo si vede che è fuori contesto rispetto all'ambiente esterno un 42 mm poi va anche contestualizzato la dimensione di un orologio quelli più piccoli sono più preziosi più pregiati danno l'idea di di qualcosa di più ricercato capito? quelli grandi saranno un pochino di pacchianeria di spadellamento e di burinaggine gli orologi indossarli con una camicia quale camicia? ti faccio vedere poi velocemente il mio brand preferito entry level qual è? orient bravo ne possiedo tre il primo è questo orient tristar con quadrante soleil tobacco questo qua è la taruba mi piace un casino è uno dei miei orologi preferiti eh sì eh poca spesa tanta resa anche se ormai fuori produzione è stato anche abbastanza difficile trovarlo eh sì ho messo questo cinturino in pelle e mi piace davvero un casino è un bello orologio ho fatto una recensione altro orient simpatico orient bambino dovrebbe essere quarta versione e 42 mm mamma mia un po' grande eh però devo essere onesto sul mio polso sta bene se per solito il scorso riesco fortunatamente a portare bene sia orologi con un diametro più contenuto sia quelli un pochetto più è un capitolo impegnativi non ci siamo è troppo e questo come lavorazione del quadrante mi piace davvero tanto 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 altro orient bello il kamasu il kamasu bravo questo fantastico dial l'odoro anche questo tra i miei preferiti e grazie al tuo video che ho potuto mettere questo bracciale della strapcode bello no che ha aumentato tantissimo abbiamo aumentato tantissimo la qualità e certo e anche questo tra i miei preferiti preferiti dopodichè ti faccio vedere PRX questo tisso PRX lo si conosce benissimo avevo comprato ai tempi la versione al quarzo nera però sinceramente mi ero stufato perché era troppo scura liscio andava a spegnere proprio l'essenza perché la differenza tra la versione al quarzo e la versione in automatica è a parte il calibro chiaramente la lavorazione del quadrante sui quarzi è liscia o soleil a volte dipende un po' dal colore mentre su quelli automatici è a tapisserie cioè a quadratini eh a quadratini scavati sembra un po' un tappeto della piscina però è una lavorazione fine e carina da vedere insomma da un po' di di brio e quadrante no? insomma secondo come lo muovi vedi queste cose qua ti da un po' di soddisfazione al polso altrimenti non potrebbe fare il suo l'orologio a parte il fatto che insomma il meccanismo al quarzo di tanto in tanto ci può stare però insomma noi siamo appassionati di orologeria ci sta l'automatico ma certo e poi l'automatico 80 cioè ti permette di abbandonare l'orologio durante il weekend e riprenderlo è fantastico 80 ore per darci un po' di attenzione perché si graffia abbastanza facilmente questo bracciale croce delizia ma io lo adoro bello assolutamente straconsigliato dopodichè ti faccio vedere gli ultimi quattro vai Hamilton bello Kakinavis Cuba promossissimo questo e questo qua nell'Olimpo lo adoro letteralmente metro zaffero l'insertogliera è alluminio questo sì un pochetto più delicato ecco molto spesso cioè indossando un Hamilton si sente che siano orologi davvero ben fatti il bracciale è solidissimo ti rende proprio questa idea di costruzione fatta bene proprio bene e che direi che questo qua dovrebbe essere sui 40 mm misure perfette al polso calza a pennello a pennello dai velocizzati su questo fermi tutti questo qua è Longin Navigation io questo qua fuori produzione vecchio questo qua l'ho tenuto sotto controllo su crono 24 non so per quanto tempo lo prendo non lo prendo chiaramente non vi sto nemmeno a dire i prezzi che lo vendevano perché erano altri tempi e si portava via comunque veramente poco ecco no mi è sempre piaciuto questo qua così bi compacts con questo bracciale guardate il bracciale qua chicchi di riso ma questi qua sono chicchi di riso eh chicconi di riso eh chicconi eh chicconi questo bracciale qua guardalo lì poi mi è sempre piaciuto la forma delle delle sfere così mi sembra che lo faccio mi sembra nero che lo tenevo sotto controllo nero io però eh non bianco così però bello eh probabilmente in cassa non me lo ricordo ma ha un calibro cronografico modulare secondo me eh 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 sì c'hai c'hai contattori dei secondi a ore però la data la data il datario non è così così lontano dal quadrante non lo so non lo so bello però Longin cronografo automatico e beh avere circa vent'anni poco meno l'anno dovrebbe essere eh sì 2004-2005 collezione Avigation Avigation e questo bracciale chicchi di riso chicconi un po' troppo bianco lucido eh diciamo per i miei gusti è stato un regalo meno male è un bellissimo regalo tra l'altro mamma mia che culo eh vedere l'ora tanto in tanto diventa difficoltoso soprattutto eh la sera eh sì ancora ancora le lancette appunto hanno un minimo di illuminazione al mattino però la sera si fa fatica devo essere onesto però è davvero un piccolo gioiellino lo tengo con tanta tanta eh cura ecco per quello che dico c'era nero no? e poi ti faccio vedere il mio omeghino topino dai guarda che quadrante Omega Seamaster potremmo definire vintage del 1992 circa 92? questa particolare lavorazione del quadrante eh sparkling ehm effetto sabbia dovrebbe essere glitter eh tutto originale coevo 92 facciamo una originale fibietta sono del cintorino non lo è e parte subito meno male nonostante insomma questi anni è ancora ben tenuto 92 eh ed è tra i ovviamente che te lo dico a fare tre allora se me lo avessero messo davanti così al volo ora magari dal vivo non lo so però così avrei detto eh questo qua è un orologio degli anni 70 degli anni 80 del 92 cioè pensate nel 92 facevano ancora gli orologi fatti così in questo stile che risente molto dei decenni precedenti no? veramente uno di quei orologi vintage classici il buono quello è che essendo del 92 praticamente vecchio lo è però è ancora possiamo considerarlo ancora moderno no? quindi non è uno degli anni 50 che ha bisogno di tantissimi cure il 92 già è più indossabile facilmente è molto bello mamma mia che bello i miei preferiti ultimo della collezione della raccolta top rolex date date 34 eh che dire lo adoro sia questo sia l'Omega C Master sono vintage siamo sui 34 e mezzo 35 millimetri eh però che dire sotto con una camicia indossata ehm stanno stanno benissimo fanno un figurone e anche questo qua si sente benissimo la sua qualità costruttiva e nulla e niente dai insomma e dai spero abbia aggredito la mia collezione spero che non sia stato troppo prolisso 10 minuti dai ci siamo continua sempre così 10 un abbraccio un abbraccio e a presto a presto 10 ma veramente non era 10 l'indicazione è 7 e 8 eh va bene comunque complimenti per tutti gli orologi orologini ma ora no arrivando in fondo qua al rolex data 34 e all omega vintage C Master da 35 millimetri quelli lì sono gli orologi che ti metti al polso da 18 e fai veramente il figo fai veramente la figuretta non come quelli di prima il bulovone patacone e il bambinone patacone hai capito che hai trovato tutte le possibili scuse per dire no sì però sul mio polso ci stanno bene è un po' troppo grandino però sei come non c'è storia quando poi ti metti questi qua capisci dov'è la finezza dove stai saper portare un orologio piccolo con gusto eh piuttosto che un patacone grosso così stile rapper anche no comunque dai tutti i begli orologi particolari senza andare navigation del longin limpa se avessi avuto il quadrante nero probabilmente ti avrei contattato pronto invece c'era bianco te lo tieni te bianco non lo voglio però è bello quel bracciale lì veramente bello dai bravo tutti i begli orologi applausi applausi per fibra eh prossima ciao davide ti presento la mia piccola collezione vai ogni pezzo di questa collezione è stato molto pensato e ognuno per me è insostituibile a per vari motivi ecco ora dal momento da come parli mi sembra che sei uno di quelli che sta per andare a morire piano piano no che sta cioè ci lasci le penne qua mentre registro il video perché si sente che si affievolisce la voce ragazzi voce quando fate un video voce un po' di brio no un po' di interpretazione di voglia di raccontare i vostri orologi inizio da quello che uso di più questo Casio MRG nrg G-Shock è quello che uso di più perché è il più comodo lo leggo bene mi dà il giorno la data alle varie funzioni del timer eccetera eccetera è veramente una descrizione una descrizione naif mi sembri quei bambini che mi mandano il video perché c'è il bracciale colorato perché è perché è bello a vedersi cioè è un pezzo stupendo è al quarzo ma ha delle rifiniture spaziali veramente non esageriamo a livelli senti che stai per morire molto alti senti e questo è quello che nell'ultimo anno ho indossato di più in qualsiasi situazione è sempre adatto e non è neanche che sfoggi così che si capisca subito che è un orologio di un certo livello bocciato prossimo video mi sono venuto le scatole quando uno comincia a fare così me lenso ciao Davide ciao sono Ani da Renate Ani con Zabrianza va bene vi presento a tutti quanti i miei gioiellini Faders Marisolacroa non sono nulla di chissà che sono orologi che a me sono piaciuti e li ho acquistati i GMT6 tutti acquistati nel 2023 ah tutti di botto tutti automatici bravo ancora Philip Watch non sarà una bella carrellata una bella visione Mido Tribute si bello 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 tutti i miei 23 forse sarà anche la più veloce di questo canale Mido Multiford la farò durare un minuto bravo Leberhard Scaffograf bello e l'ultimo cos'è? siamo quasi arrivati ah il cronografo champion bello ed eccoli qua uno due tutti i miei gioiellini undici orologi vi saluto finito il video è finito allora è il contrario quello di prima me l'enso come la melma e sto qua un minuto eiaculazione precoce cosa gli vuoi dire? niente undici orologi tutti belli tutti considerabili a parte quel Philip Watch un po' sul Mario ma mettiamo che vada bene eccoli undici orologi tutti nel 2023 quindi l'ha mandato a novembre perché sicuramente il video in undici mesi undici orologi cosa gli vuoi dire a uno così? se sta spolpando tutti i soldi in orologi ma veramente undici mesi oddio se facessi conti anch'io non è che siamo tanto distanti però vabbè complimenti tutti belli non c'ho niente da dirti visti i rivisti sul canale tutti acciaiosi no? braccialati diver virili no? però belli tutti belli vai prossimo video guardiamo l'ultimo e poi non c'ho più voglia perché oggi mi sono già girato ciao Davide ti presento la mia umile collezione di orologi orologi va bene però vedo qua che c'hai la la l'ocantina di ultimo tango a Parigi non mi hai dato sapere quale sia la motivazione presumo che tu sia un cinofilo bau bau o un cinefilo movie movie quindi buon per te iniziamo con un diver il medio ocean star questo quadrante verde braccialato io non esco pazzo per i driver però questo mi ha colpito sin dal primo momento anche il fondello abbastanza particolare il bracciale diciamo il suo punto di forza il tribute questo e anche questo spirito vintage ma certo è diciamo incluso anche di un altro cinturino mido che è questo qui che non ho mai utilizzato indossato ma si anch'io certi cinturini rimangono nella scatola come secondo orologio abbiamo il tagoyer Carrera un trono davvero eccezionale per i miei gusti però anche con piacere ha un quadrante color cioccolato cioccolato per non dire altro con dello a vista poi il bracciale è davvero fantastico molto comodo al colso molto bello questo è il Carrera eh certo un bel orologio il Carrera altro orologio della mia collezione cos'è? l'Eberhard Tazio Nuvolari vecchia referenza io preferisco la nuova per vari motivi uno perché ha uno spirito più vintage poi c'è a me fa impazzire il particolare della firma di Tazio Nuvolari sul quadrante sulla massa oscillante abbiamo l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari in oro di Sotto Carati anche la la chiusura in oro di Sotto Carati le viti insomma un orologio molto molto particolare che ha questo spirito vintage moderno però eh ed è uno dei miei preferiti diciamo anche perché non è che ne abbia moltissimi orologi ed è provvisto anche nel suo cinturino originale Eber in coccodrillo che non ha ancora utilizzato a dire la verità se c'è bracciale l'ultimo orologio della collezione l'omega speedbuster bello assaio con calibro 3861 con scappamento coassiale referenza col doppio vetro zaffero che tu conosci bene perché è lo stesso orologio davvero particolare penso che sia l'orologio più iconico della storia dell'orologeria in generale poi il bracciale è davvero fantastico questo sembra un jubilee ma non lo è ma è davvero davvero molto molto bello questo orologio eh sì c'è un po' di crisi io volevo chiederti cosa ne pensavi della mia collezione e poi volevo farti vedere altri tre orologi che ho avuto per il futuro volevo sapere cosa ne pensavi come si potevano abbinare o meno nella mia collezione e sono questi tre il longine zulu time 39 ghiera verde e il loris big crown tutti in bronzo e poi il rado golden horse questi sono tre orologi che mi piacciono davvero tanto la mia domanda era in ordine cronologico quale acquisteresti per primo e quale dopo e nulla cosa ne pensi della mia collezione e come vedi questi tre orologi futuri nella mia collezione ti ringrazio e alla prossima alla prossima ora mi hai messo tre orologi che sono completamente differenti tra loro uno un gmt uno un pointer detto stile vintage e l'altro cos'era che non mi ricordo più nemmeno cos'era il rado golden horse ah è un dress watch piccolino lucicoso ma allora io ti dico io cosa comprerei per primo per primo comprerei loris loris big crown tutto in bronzo che è veramente cazzuto mi piace quel modello lì io ho il bare nostrum che non c'ha il bracciale in bronzo a quel tempo lì non gli facevano ancora i bracciali tutti in bronzo mi sembrava anche una cosa un po' fantascientifica il bracciale tutto in bronzo non lo fanno non lo faranno mai invece li fanno il bracciale in bronzo ma anche poi insomma ha saputo indossare tutto in bronzo perché quando vira si scurisce potrebbe diventare pesante il positivo è che visto quanti cinturini c'hai da parte togli il bracciale di bronzo ci metti un cinturino in pelle ed ecco che ti si alleggerisce la vista io prenderei primo il big crown secondo il rado golden horse che me l'ho venduto io l'ho venduto perché l'ho venduto perché perché l'ho venduto non lo so perché perché l'ho venduto che però è uno di quelli che ti rimane qua che ti fa quell'effetto vintage stile il digest da 36 o il contichi dell'eterna quegli orologini così e lui ce l'ha è moderno però c'è quello stile lì bello 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 per ultimo prenderei lo zulu time che è quello 3 3 quello che mi fa a me non pazzire sinceramente lo zulu time in questa configurazione poi no verde non mi dice tanto è l'ultimo è l'ultimo che prenderei tra l'altro in questi giorni ho visto il negozio da pasquali domenici che è arrivata la versione del zulu time per Odinchi che è una versione da 39 mm che hanno fatto solo per il portale Odinchi Odinchi.com e poi in Italia viene venduta dalle boutique e lui ce n'ha uno un pezzo gli hanno dato è riuscito ad averlo tutto in titanio con la ghiera in acciaio stile Rolex Explorer 2 la ghiera andatelo a vedere perché è veramente spettacolare quello lì quello lì lo metterai davanti a questi due come primo addirittura va bene dai ragazzi non so quanto tempo abbiamo passato con i video uno l'ho anche tagliato quindi come va va vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video degli amici del canale e la faccia del presentatore del canale vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love mi piace